Fra l'altro oggi è una giornata particolare perché è la giornata della memoria Voi sapete che le giornate della memoria, le giornate delle donne, la violenza sulle donne non mi piace ricordarle solo perché c'è la ricorrenza sacrosanta che tutti dobbiamo formamente rispettare ma mi chiedo, parlo con Dorella che è un esperto anche di teatro e quindi di eventi quindi se ha senso ricordarla solo in questa circostanza non dovremmo come dire in un certo senso considerare questo aspetto sempre presente e con qualche altro dato così magari Dorella diciamo ai cittadini a casa che due anni fa Segre è stata nominata cittadina onoraria di Venezia perché? Perché Roma e Venezia sono le due città che hanno avuto più rassellamenti di tutte le città d'Italia quando le maggiori deportazioni sono state fatte proprio in questa città addirittura cose interessanti per l'informazione tipo per anni si è pensato addirittura a un negazionismo quindi alcuni dicevano come lo sbarco sulla luna, non è avvenuto lo sbarco sulla luna ma qualunque cosa succeda ci sono quelli che la pensano all'opposto per farsi un po' di pubblicità quindi non esiste Auschwitz, non esiste questo serminio ovviamente ricordiamoci per la cronaca abbiamo uno staff formidabile che mi ha fornito questa informazione ricordiamoci che le riprese di Auschwitz sono state fatte, qualcuno non lo sa, ma da Alfred Hitchcock quindi evidentemente saranno vere, quindi ricordiamoci questo aspetto